Ora lo prego, mi risponda con sincerità. Negli ultimi giorni, la situazione è migliorata o peggiorata? Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Ma lei lo sa, che alla fine non è l'unico ad avere questo tipo di problema. Sta arrivando, sta arrivando. Sta arrivando, sta arrivando. Dai che sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, dai. Stai arrivando, sta arrivando, sta arrivando Arriva, arriva Sta arrivando Sta arrivando, arriva, sta arrivando Arriva, arriva, arriva Dai, dai, dai che sta arrivando, dai, dai, dai Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Arrivando, arrivando, sta arrivando, sta arrivando Faccia per se stesso Mi dica qual è realmente il suo problema Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Sta arrivando Sta arrivando